E' importante, dovremmo essere anche così aiutati da quel pizzico di buona sorta che probabilmente gli episodi decisivi siano da loro parte. Da questo punto di vista non credo. Spero che le difficoltà che si sono viste, spero che ci possano aiutare, nel senso che devono comunque far sì che ci sia questo processo di organizzazione e consapevolezza di squadra.